Se sei un fotografo ti sarà sicuramente capitato di sentirti dire dal cliente che è possibile togliere qualcosa dal preventivo, tipo magari lo studio fotografico, oppure l'assistente, oppure il secondo fotografo. I clienti spesso adottano questa tecnica perché nel momento in cui tu gli dici ti faccio un lavoro per mille euro, virgola, veniamo io e il mio assistente, il cliente coglie la palla al balzo per dire ok, quindi se vieni da solo sono 500. È capitato a tutti e ovviamente è capitato anche a me. E oggi sono qui per raccontarvi alcune strategie che sto tuttora implementando perché non si finisce mai per cercare di far fronte a queste richieste assurde dei nostri clienti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e di clienti biricchini che pur di risparmiare qualche euro, una volta che ricevono da noi il preventivo cominciano a spulciare le varie voci per cercare di scoprire se possono togliere qualcosa chiedendoci uno sconto a fronte del minore impegno che loro stimano dovremo mettere nel lavoro che gli dobbiamo fare. Ora, prima di cominciare, io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul bottone qui sotto, attivate anche la campanella per non perdere le notifiche, lasciate un like a questo video sulla fiducia perché sono sicuro che se lo seguite fino alla fine avrete imparato qualcosa di utile. Cominciamo col ribadire l'assurdità di una richiesta del genere, perché nel momento in cui io vado dal mio meccanico e gli dico senti, mi devi cambiare la gomma perché l'ho forata, però o non usare l'avvitatore, tu non usi l'avvitatore per cambiarmi la gomma e così mi fai uno sconto perché non ti ho fatto usare l'avvitatore. Il mio meccanico prende l'avvitatore, me lo pianta qui in mezzo agli occhi e la gomma non me la cambia neanche, io me ne torno a casa con un bel bernoccolo. Ve la vedete questa scena? Ed è proprio questo esempio da cui io traggo spunto per andare a spiegare questa cosa ai miei clienti. Nel momento in cui tu mi dici che non andiamo in sala posa a fare lo shooting, non mi stai facendo un favore, perché la sala posa per me è uno strumento. Nel momento in cui tu mi togli uno strumento, significa che io dovrò fare più fatica per farti le foto, non di meno. Tu non vuoi pagare quello strumento. Ma sai cosa ti dico? Se tu vuoi le foto senza la sala posa e quindi senza le luci e senza tutte le comodità che ci sono in una sala posa, dico sala posa per dire, può essere un qualsiasi altro strumento. Se tu vuoi che io ti faccia delle foto e mi togli uno strumento, io te le faccio pagare di più. E ti spiego perché. Se io vado da un operaio in una cava di ghiaia e gli dico che deve estrarre il materiale senza usare il martello, ma solamente le sue mani, quest'operaio non mi sarà riconoscente, non farà meno fatica, si distruggerà le mani nel cercare di fare la stessa cosa che prima faceva con uno strumento in mano. Quindi nel momento in cui tu mi dici che mi togli il martello e mi paghi pure di meno, io non sono contento. E siccome in minima parte ce l'ho io il coltello dalla parte del manico, perché sei tu che mi stai chiedendo un servizio, io non sto venendo a imboccarti, a dirti ti prego, fatti fare delle foto, no, sei tu che me le hai chieste. A quel punto io con questa spiegazione ti faccio capire che se tu mi togli uno strumento mi devi pagare di più. Il motivo è molto semplice. Se noi andiamo in studio avremo la luce curata che dico io, avremo tutto posizionato con i sacri crismi, avremo una scena adeguata alla ripresa che vogliamo fare. Se facciamo la ripresa in una qualsiasi altra zona che non sia il mio studio, quindi in una zona che non è adatta, non è trattata, ci sono distrazioni, ci sono luci parassita, ci sono fonti di distrazione anche semplicemente per le persone che lavorano, nel momento in cui tu cliente mi fai lavorare in quel contesto, e vi faccio un esempio specifico, mi capita di continuo di sentire miei amici e colleghi che mi dicono eh, devo fare lo shooting con una coppia piuttosto che degli sposi, piuttosto che delle robe più impensate, e mi sento dire sì però guarda non andiamo in sala posa a fare il lavoro, facciamo in casa, ok, lo facciamo in casa perché? Perché così i clienti dicono, così mi togli dal preventivo la voce di spesa affitto della sala posa, però quello che bisogna spiegargli è quanto segue. Se tu mi togli la sala posa e facciamo le foto in casa tua, e poi dopo mi dici sì però mi scontorni, mi fai lo sfondo bianco come se fossimo stati in studio, è lì che io vado a battere, è lì che io gli dico, vedi, se noi andavamo in studio, lo sfondo era già bianco, e questo significava meno ore di lavoro per me, per cui facciamo finta che lo studio costasse 200 euro, che più o meno siano lì. Io vi sto chiedendo, facciamo finta, vi sto chiedendo 200 euro per il mio lavoro di farvi le foto in sala posa, e vi sto chiedendo 200 euro per l'affitto della sala posa. Io non ho una sala posa mia adatta a fare cose di un certo tipo, per cui affitto una sala posa, per cui il totale è 400. Nel momento in cui tu mi dici che te le devo fare in casa tua, e che quindi ti posso togliere 200 euro, io ti dico no, perché se io con 200 euro per me, e 200 per la sala posa, in due ore di shooting avevo finito, se io poi devo scontornarti due ore di shooting, io voglio 200 per lo shooting, e 400 per la post produzione. Perché quello è tempo mio, cioè tu risparmiando sullo studio, stai ladrando il tempo a me in realtà, mi stai facendo lavorare delle ore che io non avevo preventivato, e io non voglio lavorare delle ore che non avevo preventivato, perché tu cliente non hai voluto affittare la sala posa. Il discorso da fare secondo me è questo, bisogna portarli a capire con i fatti proprio, perché un conto è spiegarglielo, io ti spiego, ti faccio l'esempio del meccanico con l'avvitatore, ti faccio l'esempio della cava di ghiaia col martello, se tu mi togli uno strumento al lavoratore e il lavoratore non lavora meglio e non è contento. Però ancora di più con i fatti. È semplicissimo, io lavoravo due ore, mi prendevo 200 euro. Se tu vuoi che io oltre a fare quel lavoro, ti scontorni due ore di shooting, benissimo, sono 200 euro per lo shooting, e 400 per il resto del lavoro di scontorno. Ed è anche poco, perché in due ore di shooting, magari capace che uno se ne viene via con 100 foto, ti devo scontornare 100 foto e metterti un fondale dietro 100 foto fatte in casa tua. Quindi attenzione, io non li voglio quei soldi. Io uso quella cifra semplicemente per dissuadere il mio cliente dal perseguire questa strada. Cioè io non voglio fargliele in casa. Non lo voglio per questo fatto, perché mi toccherebbe lavorare moltissimo dopo per sistemargli cose che non vanno bene, e anche per il fatto che è avvilente per me il fatto di aver fatto un lavoro di cui non sono contento, un lavoro che è sottoperformante rispetto a quello che faccio di solito. Un lavoro che non posso esibire. Perché c'è anche questo. Cioè io quando faccio un lavoro penso sempre cavolo, bello questo lavoro che ho fatto. Il prossimo cliente che mi chiede questa roba gli faccio vedere questo. Gli dico, vedi che lo so fare. Se io mi porto a casa un lavoro di cui non solo non sono fiero, ma me ne devo anche un po' vergognare, perché dici, ah, hai dei clienti che non hanno nemmeno i soldi per la sala posta. Cioè non è bello. Non è bello per il fotografo. Quindi io tendo a rifiutare questo tipo di commissioni per questo motivo e soprattutto perché cliente che non ha i soldi per la sala posta è un cliente che quindi paga poco. Perché i clienti che ho io di solito non si fanno di questi problemi. Io lavoro per le aziende di solito e le aziende non si fanno di questi problemi. Molte delle aziende per cui lavoro io praticamente non hanno budget per queste cose. Cioè non esiste una cifra. Quello che serve loro lo pagano. Verificano che tu non li stia fregando. Se gli chiedi 6.000 euro per un'ora di sala posta ovviamente la sgamano la cosa. Però se c'è da pagare 200 euro per un lavoro fatto bene li tirano fuori senza problemi. Con i privati non è quasi mai così. I privati cercano sempre di tirare sul prezzo e di risparmiare qualcosa. Secondo me le due frecce che abbiamo al nostro arco per cercare di tamponare questa cosa sono la prima, fargli presente che nel momento in cui togli un cacciavite all'elettricista e gli dici di avvitare le viti con le mani l'elettricista non è contento perché gli sanguinano le mani e quindi a quel punto il preventivo cambia perché lui era venuto lì per fare tre giri di cacciavite e non per scuoiarsi le dita. Questa è la prima cosa che possiamo fare. Se il cliente lo capisce e spesso lo capisce allora si può tranquillamente proseguire. Se il cliente dà segnali di non capirlo o comunque insiste sulla sua strada sganciamo la nostra bomba più potente ovvero gli diciamo proprio senza mezzi termini senza aggressività ma anche senza indecisione gli diciamo guarda se tu mi chiedi di lavorare in questa maniera significa che poi mi chiederai delle modifiche quindi io potrei anche dirti che vengo te le faccio e me ne vado e tu non avrai diritto a post-produzione perché è insito anzi lo voglio per iscritto e davanti a testimoni che hai capito che non ci sarà post-produzione e che tutti gli errori nelle foto sono colpa tua perché saranno nello sfondo che non è adatto io potrei anche dirgli così però così io sto lavorando male così io mi faccio il nome di uno che lavora male rimangono delle immagini che sono mie dove si vede che io lavoro male io non voglio questa roba in giro non voglio gente che dica in giro eh sto qui ci ha fatto delle foto mica tanto belle preferisco di gran lunga che ci sia in giro gente che diceva è un po' caro sto fotografo noi l'abbiamo mandato a quel paese perché costava troppo preferisco di gran lunga ma poi questo non succede questo non succede perché nessuno va in giro a dire eh quello là costava troppo perché non è bello perché andare in giro a dire quello là costava troppo è come dire io quello là non potevo permettermelo quindi nessuno ci fa cattiva pubblicità se costiamo troppo questo è importante ricordatevelo se costate troppo nessuno vi fa cattiva pubblicità nessuno va in giro a dire che un Rolex costa troppo nessuno va in giro a dire che una Lamborghini costa troppo lo sappiamo quanto costa quella roba la vogliamo tutti sotto sotto e non andiamo certo in giro a dire ah che antipatici quelli della Lamborghini che la fanno costare così tanto no non lo facciamo perché sarebbe come dire ah metapino io che non posso permettermela nessuno ha piacere a farlo e quindi non succederà mentre se lavorate male avrete la garanzia che ci sia una o più persone che vanno in giro a dire eh guarda quello lì non lavora bene cioè gli abbiamo chiesto di fare una cosa senza la sala posa quello ha detto va bene e poi ha fatto delle foto brutte è la cosa peggiore che possa succedere è la peggiore pubblicità che ci possiamo fare e anche questo lo possiamo far presente al cliente tenendo sempre fermo e saldo il punto che se vogliono un lavoro fatto male ce lo dovranno pagare di più nel mio caso veramente i numeri che vi ho detto prima sono abbastanza accurati perché se io prendevo 200 euro per lavorare bene come dico io per lavorare male come vuole il cliente voglio il doppio in più cioè quindi da 200 passiamo a 600 voglio 200 più 400 per fare il resto del lavoro perché non era patuito quel resto del lavoro io facevo uno shooting con un minimo di post produzione doveva essere finita lì se tu mi chiedi due ore di shooting e otto ore di post produzione non sono gratis quelle ore lì ovviamente con questo ragionamento dobbiamo anche essere pronti a perdere alcuni clienti perché qualcuno di questi potenziali clienti sicuramente farà il ragionamento e dirà cavolo però questo qui cioè prima voleva 400 adesso cercavamo di risparmiare questo rialza addirittura la cifra sai che ce lo mando a quel paese ma è meglio così è meglio così perché è un cliente che vi faceva perdere un sacco di tempo che magari il giorno stesso dello shooting vi diceva non portare neanche l'assistente facciamo 100 e di fronte a una roba del genere cioè quella è una cosa che non deve succedere cioè vi stanno facendo lavorare al peggio delle vostre possibilità vi stanno pure pagando una miseria io se devo lavorare male ed essere scontento voglio essere strapagato devo tornarmene a casa sommerso dalle banconote se mi fai lavorare così male questo è anche un ottimo metodo per riconoscere clienti con cui non vale la pena indubbiamente perché un cliente che ha capito il valore di quello che stai facendo non farà troppi problemi per i soldi un cliente che non l'ha capito cercherà continuamente di tirare sul prezzo ma noi non lo vogliamo un cliente che tira sul prezzo perché è un cliente che non ha capito il valore di quello che gli stiamo vendendo immaginatevi un cliente che va in un atelier della Rolex e comincia a dire ah bello il Submariner quanto costa? ah 16.000 euro è un po' tanto senti facciamo una cosa però non mi dai la scatola e te lo pago 10.000 dai facciamo così capite che è inaudito uno te la tira qui la scatola non è che se se prendi un pezzo in meno e mi provochi anche il disagio di lasciarmi lì la scatola vuota non è che lo paghi di meno questo malinteso che con i fotografi questo ragionamento si possa fare sicuramente nasce dal fatto che molti prestano i propri servizi a titolo quasi gratuito o completamente gratuito infatti questa è una cosa che assolutamente non si dovrebbe fare se non siamo sicuri delle nostre capacità ci sta che ci facciamo pagare di meno però non ci sta assolutamente che non ci facciamo pagare soprattutto per un lavoro fatto male perché il discorso è non mi faccio pagare perché mi hanno chiamato da Vogue cavolo ne so mi hanno chiamato a fare un lavoro bello un lavoro che dici mi hanno chiamato da Rolling Stones cosa cavolo ne so una rivista di settore bella mi ha chiamato a fare un lavoro dico non posso farmela sfuggire vado anche gratis da sti qua innanzitutto è un errore perché un lavoro alto come questo di solito è retribuito quindi presentarsi a fare un lavoro alto dicendo sì 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 ma io ve lo regalo figura da dilettante immediatamente quindi già non va bene ma facciamo pure finta che vada bene facciamo pure finta che uno dica guarda sono così contento di collaborare con voi che lo faccio gratis ok però era Vogue però era Rolling Stones cioè qui stiamo parlando di fare delle fotografie in appartamento a un cliente che non voleva pagare la sala posa o di fare delle fotografie sotto il sole a due sposi che non hanno voluto il secondo fotografo e che poi si lamenteranno perché nell'unica posa che si è riusciti a prendere del bacio la sposa aveva l'occhio chiuso e anche questa è una cosa che possiamo far presente al cliente nel momento in cui ci tagliano l'assistente nel momento in cui ci tagliano il secondo fotografo ci stanno mettendo nella condizione di lavorare male e ci stanno quindi mettendo nella condizione di essere poi ricattabili ulteriormente perché ah tu hai fatto le foto giuste tutto il giorno ma la foto a cui tenevo di più quella con la mia povera nonna che era venuta lì solo per mezz'ora perché ha la bombola dell'ossigeno e tu sei riuscito a fargli una sola foto con l'occhio chiuso alla nonna adesso ti pago di meno questo succede perché mi hai tolto il mio secondo fotografo che mentre io facevo gli sposi avrebbe dovuto fare gli invitati questo è quello che succede e ovviamente i clienti a volte fanno un po' i furbetti su questa cosa ti mettono in difficoltà apposta perché così dopo ti possono dire lamentandosi che vogliono un ulteriore sconto quindi siccome noi non vogliamo ridurci a lavorare come dei cani per un decimo del compenso è meglio troncare subito con le strategie che vi ho appena elencato quindi facendo presente al cliente che se mi togli uno strumento non mi paghi di meno ma mi paghi di più facendo presente al cliente che se mi togli un assistente io faccio più fatica quindi se io prima io titolare dell'agenzia fotografica o io detentore della partita IVA cioè se io prima prendevo 3000 euro per farti quel lavoro e venivo con 4 operatori se tu mi dici vieni da solo a fare il lavoro di 4 operatori io non è che a quel punto ti decurto il preventivo e vengo per 100 euro no io a quel punto ne voglio 8000 di euro perché vuol dire che io dovrò fare il lavoro di 4 persone quindi non ti faccio pagare di meno ti faccio pagare di più io ti sto già facendo pagare di meno perché sto distribuendo il mio lavoro su assistente aiutante secondo fotografo che io stesso pago di meno io prendo di più perché io sono facciamo finta imprenditore quindi io pago di meno quelli che lavorano per me la maggior parte me lo tengo io sarebbe bello fosse così ma poi non ci si riesce neanche però il concetto è quello capito nel momento in cui tu mi togli i miei strumenti mi togli i miei collaboratori vuol dire che io devo fare più fatica io che sono titolare di questa trattativa non ti chiedo di meno ti chiedo di più per cui sto cercando di farti un favore voglio cercare di tenerti il prezzo più basso possibile lasciami i miei strumenti lasciami i miei assistenti lasciami la mia sala posa se no io il prezzo te lo alzo vedrete che perderete qualche cliente però guadagnerete due cose guadagnerete un pochino più di stima nei confronti vostri e del lavoro che state facendo e vi verrà una gran bella faccia tosta la faccia da poker che è necessaria per guardare negli occhi un cliente e dirgli non te lo faccio mi spiace non si può fare chiedi a un altro perché a queste condizioni io non lavoro e vedrete che metà dei clienti li perderete ma l'altra metà accetteranno e quelli che avete perso sono clienti che non volevate beh amici siamo arrivati alla fine di questo interminabile sermone io spero veramente che questo mio monologo sia riuscito a trasmettervi un pochino della mia esperienza e che vi sia arrivata anche un pochino di autostima nel condurre comunque una trattativa e nel non sottostare a richieste assurde di clienti che cercano di smangiare via il più possibile per cercare di risparmiare qualche penni cercate di non sottostare a richieste assurde di questo tipo da parte dei vostri clienti cercate di lavorare come volete voi mettendoci la vostra testa il vostro stile la vostra strumentazione i vostri collaboratori quello che è ricordatevi che siete registi del vostro shooting ricordatevi che siete voi a decidere che cosa ci deve essere nel momento in cui vi dicono che dovete scattare senza la macchina fotografica la cosa è semplicissima vieni a fare le foto senza la macchina fotografica non devi neanche portare il peso quindi ti pago di meno no io non ci vengo mi hai tolto uno strumento essenziale e io non ci vengo a lavorare in questa maniera andrò a lavorare per qualcuno che capisce il mio valore e con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti